Sono le 15.25 del 13 febbraio 2024. Mi trovo a Celana, fammi in grandiere. Celana fa circa 12.000 abitanti. Ecco il castello di Celana. Qua abbiamo il cimiterio di Celana. Ecco il cimiterio di Celana. L'aria Puicenza. Mettiamo così per avere una visione migliore l'aria Puicenza. Più piccolo però è una visione migliore. Guardate com'è stessa Celana. Raggiungiamo un po' l'immagine. Si rimbiccolisce. Ecco il castello. Enorme il castello. Benissimo. E poi nel complesso guardiamo la montagna di Celana. Fammi indirizzare così. Effettivamente a Celana ci sono stato l'anno scorso. partito dal luogo dei Marsi. Celana è 26 km. Qua sono andato San Poteto Aielli No. San Poteto. Aielli sta di là. San Poteto. Ovintoli. Rovere. Rocco di Mezzo. Terra Nera Rocco di Campi. Ho fatto un bel giro. Perché c'è stato l'anno scorso. Sono andato il mese di settembre. Alla fine ho fatto quasi 130 km. Alla fine ho fatto un po' l'anno scorso. 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 Alla fine ho fatto un po' l'anno scorso.